Domani alle ore 17.30 in Sala Rossa, in sede municipale, ci incontreremo con i cittadini per ragionare del rapporto tra Pordenone e l'acqua. Avremo alcuni interventi. Il primo sarà tenuto dal giornalista e scrittore Giuseppe Ragonia, che ci racconterà sia del rapporto storico che l'acqua ha con la città come fonte di energia primaria per il suo sviluppo, fino a considerazioni che sta evolvendo in quest'ultimo periodo. E' l'architetto Stefano Tessadori che invece ci proporrà un suo lavoro che si è strutturato negli anni, che parte dal concetto che l'acqua possa essere l'asse di sviluppo delle nostre attività culturali. Infine la chiusura all'architetto Giuliani, il redattore del piano regolatore, perché tutti questi ragionamenti sono parte fondamentale di quello che sarà il nuovo strumento urbanistico che trova proprio nell'acqua uno degli elementi di sviluppo e di crescita per la nostra città.